Con Michele Mezzetti, fisioterapista dell'Unione Triestino 2012, perché oggi purtroppo insomma a metà del primo tempo c'è stato un problema a Simone del Mestre, io dalla tribuna stampa ho letto il suo labiale, sembrava che dicesse della sua mano, è rotta, è rotta, purtroppo credo che ci confermerai questa diagnosi. Confermiamo questa diagnosi, siamo in attesa delle radiografie per valutare l'entità del problema, comunque quasi sicuramente c'è una frattura a livello del metacarpo da valutare con immagini diagnostiche più approfondite, solo domani sapremo qualcosa di più. La dinamica dell'infortunio è stata un po' strana, perché sulla punizione non sembrava essere andato giù male con il corpo? No, ha avuto un contatto con il palio, ha avuto un'iperestensione del polso, queste cose qua purtroppo la diagnosi è spesso in fausta. Quindi sicuramente sarà un periodo di gesso, di doccia, comunque poi la ripresa ci vorrà un po' di tempo? Ci vorrà un po' di tempo, speriamo sia solo una cosa da doccia gessata, non sia una cosa da operare, se no i tempi si allungano ulteriormente. Comunque possiamo ipotizzare almeno un mesetto? Possiamo ipotizzare almeno un mesetto e speriamo che basti. Anche perché dopo la vittoria 3-0, se questo è lo scotto da pagare, se ne paghiamo una vittoria siamo rovinati. Più chiaro di così non si può, grazie, grazie mille. Al fisioterapista della Triestina, Michele Mezzetti.